ciao a tutti oggi io e il pink fluffy unicorn vi porteremo alla casa dello stilista una casa sperduta in un bel paesino e adesso la esploreremo insieme la villa vista da fuori scusate se le riprese sono un po fuscate ma sta piovendo che dio la manda e neanche l'ombrello salva la mia macchina fotografica casa veramente bellissima non sembra abbandonata eccomi sono entrata vengo accolta da queste iniziali wow è veramente bellissima e ben tenuta wow veramente bella e comincio a esplorarla eccomi qua allora c'è un giornale del 1990 qui invece a qui è un locale di servizio con una stufa una caldaia e poi oggetti sparsi direi che la strada fatta ne basta veramente la pena e voi sapete che quando mi piace un posto parto per la tangente prima di andare al piano di sopra entro in questa stanza che doveva essere appunto cucina o sala da pranzo eccolo qua frigorifero no non c'è dentro niente ma c'è un'altra stanza wow frigorifero fiat addirittura uno di quelli che si apre con la chiave infatti mi pare che sia sotto chiave ancora le bottiglie piene di acqua sembra che abbiano lasciato la casa da un momento all'altro bene e qui che cosa c'è la cantina si beh io scendo devo fare un po' di gincana perché ci sono un po' di oggetti buttati e spinta dalla curiosità sono scesa in cantina ma non c'è assolutamente nulla quindi faccio una brevissima ripresa a parte quei lavatoi ma davvero non c'è niente di niente ecco qua però non entro perché è pieno d'acqua e va bene adesso vado al piano di sopra eccomi al piano di sopra questa è la camera da letto eh casa dello stilista sì comunque mi informerò mi informerò e vi dirò vado avanti e vediamo qua allora qui invece un'altra camera da letto ma doppia una vecchia cassettiera qua sono io ciao ciao e qua un armadio con un cuscino e basta la madonna del lago no ma è veramente conservata molto molto bene la lavatrice sicuro non è recente qua c'è la credenza vediamo cosa contiene ah beh sciampi eccetera addirittura un letto a molle penso che erano dei viaggiatori perché continuo a trovare dei pliand di viaggi e mete dell'america latina e non solo non è che carini quelli a click sì scusate la luce ma se non la non l'accendo non vedete nulla so che apparteneva a una persona francese ma datemi il tempo di indagare infatti belle canzoni di francia infatti va bene io allora scatto qualche foto e poi ci vediamo tra poco qui invece una piccola stanza piena di oggetti mi sono azzardata e mi sono affacciata sul balcone sì oggi è giornata piovosa ma non importa trovo questa casa veramente bellissima ecco qua un'altra stanza sì secondo me era una famiglia che viaggiava addirittura le saponette della Kamai vecchie come non so cosa perfetto anche qua scatterò le foto e vado al piano di sopra eccomi al piano di sopra e piove dentro i soliti murales fatti da qualcuno e qua sta venendo via tutto qua un calendario del 1988 libri riviste e qua nient'altro qua sto praticamente camminando su un materasso qui un bagno qui invece un altro deposito di oggetti ma nulla di più salgo l'ultima rampa di scale dovrebbe esserci la torretta sono proprio sulla torretta ciao ciao ma le sorprese non finiscono qui perché non era l'ultima e salgo sopra andiamo a vedere e nulla sono sull'altra parte della torretta c'è un altro terrazzino al piano terra con tanto di fanchine ulala la falce l'esplorazione alla villa dello stilista è terminata quindi io e il pink fluffy unicorn vi ringraziamo speriamo che vi sia piaciuta iscrivetevi al mio gruppo facebook urbex for passion per favore profili con foto seguitevi su instagram come la maletita feliz e ci vediamo alla prossima esplorazione ciao ciao